Ha festeggiato il decennale l'evento che coniuga valorizzazione del territorio, motori ed eccellenze enogastronomiche organizzato dagli Story Club di Castrovillari dal titolo Sulle strade del Magliocco. Un connubio perfetto che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi diventando un grande attrattore per il turismo del settore. Diciamo che questa mattina la giornata non è delle migliori però tanti sono stati partecipanti. Sì sono stati tanti partecipanti, non si sono fatti intimidire dal tempo, sono venuti ugualmente dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Sicilia e quindi insomma siamo contenti di questo. Un appuntamento per gli appassionati di auto storica e moderna e non agonistico aperto a tutti che partito dalla centralissima piazza municipio a Castrovillari si è sviluppato tra i comuni di Castanaloionio, Frascinetto e Francavilla Marittima per circa 100 chilometri. Che cosa racconta sulle strade del Magliocco? Le strade del Magliocco è improntato pienamente sul nostro vigneto che è un vigneto che negli ultimi anni sta prendendo sempre più un ruolo prioritario nei vini calabresi. Concludendosi poi presso le tenute Ferrocinto, partner storico dell'evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.